Buonasera e bentrovati. In apertura del nostro telegiornale una notizia di cronaca giudiziaria. Arrivata in tarda mattinata la sentenza che vede imputato Mimmo Lucano, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Mano pesante dei giudici che hanno condannato l'ex sindaco di Riace a ben 13 anni di carcere. Ma tutti i dettagli nel servizio di Lario Balì. E dopo la sentenza la nostra Francesca Lagatta ha raggiunto Luigi De Magistris che ha candidato Lucano come capolista in Calabria. Ascoltiamo le sue dichiarazioni a caldo. E sulla vicenda di Mimmo Lucano si è espresso anche il direttore della Cineus 24, Pino Aprile, che dice che è una sentenza che ci disorienta. Vediamo. Continuiamo a parlare di politica. Ci spostiamo a Crotone. Nuova tappa del tour elettorale di Mario Oliverio, l'ex governatore della Calabria, in calza e provoca. Saremo noi, dopo le elezioni, a ricostruire quel che resterà di PD e centrosinistra. Il servizio di Francesca Cagliazzo. E voltiamo pagina, parliamo di sanità e andiamo a Reggio Calabria, dove comincia una nuova fase della campagna vaccinale. Arriva la somministrazione senza aghi. Ci spiega di più Elisa Barresi. Gravi disturbi al comune di La Mezzia Terme. Per avere una carta d'identità bisogna aspettare addirittura tre mesi. È una vicenda che ha dell'incredibile, che ci racconta Tiziana Bagnato. Emergenza cinghiali nel Vibonese. La loro presenza infatti ha messo in ginocchio gli agricoltori di Maierato, i quali stamattina sono tornati a protestare davanti alla prefettura. Il servizio di Cristina Iannuzzi. E restiamo in città, ma per parlare di cultura. Fervono i preparativi per gli eventi, compresi nel riconoscimento di Vibo come capitale italiana del libro. Non siamo in ritardo, dice il sindaco Limardo, ma non mancano le polemiche. Ci spiega meglio Agostino Pantano. E andiamo a Cosenza a mettere in rete per fare il sistema le realtà che producono cinema, musica e teatro. E questa è la proposta del collettivo Prodi. Ascoltiamo Alessia Principe. E siamo allo sport. Nelle gare di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Lettanti, spicca il successo esterno dell'Ocri in casa della Gioiese, mentre l'Acri si riscatta battendo l'amorrone nel derby. Vediamo il servizio di Roberto Saverino. E sempre con Roberto Saverino andiamo a scoprire insieme il personaggio della settimana. È Sandro Ciparone, storico allenatore calabrese. Vediamo. E io vi ricordo, questa sera alle 21.30, una nuova puntata di Rinascita Scott. Il maxiprocesso all'Andrangheta condotto da Pietro Comito e Pino Aprile. Vediamo una piccola anticipazione. Ed era questa la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.